Scattano da mercoledì, primo settembre, le nuove regole che estendono l'obbligo del Green Pass nel nostro paese. La certificazione digitale verde diventerà necessaria anche su treni, traghetti, aerei e autobus e sarà estesa anche al personale scolastico e per accedere agli atenei, dove il Green Pass sarà richiesto anche agli studenti universitari. Nella fattispecie, dunque, da domani l'utilizzo obbligatorio del Green Pass riguarderà i settori dell'istruzione e dei trasporti, ambiti particolarmente attenzionati a pochi giorni dal ritorno in classe, anche se sul fronte trasporti, la certificazione verde non sarà necessaria per quelli regionali e locali. L'obbligo del Green Pass scatterà infatti per l'accesso e l'utilizzo di aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, a esclusione di quelli impiegati per i collegamenti maritmi nello stretto di Messina, treni di tipo intercity, intercity notte e alta velocità, e autobus che collegano più di due regioni o che siano adibiti a servizi di noleggio con conducente. Su tutti gli altri mezzi di trasporto, non ricompresi nelle categorie sopracitate, la certificazione verde digitale non si rende obbligatoria, ma, precisa il Governo, resta comunque necessaria l'osservanza delle misure anticontagio. Green Pass obbligatorio da domani anche nelle scuole, per il personale scolastico ma non per gli alunni, e nelle università, dove invece la certificazione sarà necessaria anche per gli studenti universitari. Rimangono sempre valide anche le regole adottate dal 6 agosto scorso, che prevedono l'obbligatorietà del Green Pass per accedere, ad esempio, ai servizi di ristorazione svolti al tavolo e al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei e altri luoghi della cultura, piscine, centri natatori, palestre e centri di benessere all'interno di strutture ricettive, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, e, tra gli altri, concorsi pubblici. Il Green Pass avrà una durata di 12 mesi e servirà ad attestare che il suo possessore avrà fatto almeno una dose di vaccino o che sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle precedenti 48 ore, oppure che sia guarito dal Covid nei sei mesi precedenti. Sono esentati dall'obbligo della certificazione verde i bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale e i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Per tutti gli altri, le sanzioni previste vanno da un minimo di 400 a un massimo di 1000 euro negli ambiti in cui, da domani, scatterà l'obbligo di utilizzo del Green Pass.